Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel vostro salotto, appuntamento consueto come ogni lunedì per approfondire quella che è stata la domenica del nostro pallone, questa sera abbiamo ospite Andrea Maniero, direttore sportivo del Campo d'Arsego, primo in classifica in Serie D. Buonasera a tutti. E un graditissimo ospite, Domenico Bertoncello, ex giocatore di Cittadella Ravenna, nonché attualmente preparatore dei portieri a Rosà, insomma hai girato tutto il Veneto in lungo e in largo. Abbastanza, buonasera a tutti, grazie a Alex per avermi invitato qua stasera. E allora come da scaletta iniziamo a parlare di Serie D, iniziamo quest'oggi con una partita per cuori forti perché Chions Campo d'Arsego è finita 3 a 4, grande partita da parte vostra, insomma avete saputo rispondere benissimo anche al momentaneo svantaggio e alla fine insomma si poteva anche avere un risultato un po' più rotondo. Però Campo d'Arsego, grande qualità, primo in classifica, un commento Andrea. Ma è stata una partita dura su un terreno difficile visto il tempo, complimenti al Chions perché ci ha reso la vita difficile e noi poi siamo tutti fuori, abbiamo fatto un gran secondo tempo, credo sia una metoria meritata. Come state gestendo un attimino la pressione delle prime in classifica? All'inizio del campionato sulla griglia di partenza tanti davano il Campo d'Arsego come una squadra che sarebbe arrivata a giocarsi il titolo fino in fondo insieme a altre 3-4 formazioni. Adesso con la vittoria anche del Cartigliano, il passo falso della Driese, insomma c'è questa piccola mini fuga in vetta con voi e la squadra di Alessandro Ferronato e a inseguire Legnago insomma e tutte le altre. Legnago oltretutto piccola rivelazione di questo torneo. Intanto non c'è nessuna pressione perché le pressioni nello sport è divertimento, bisogna andare in campo sempre per divertirsi, per fare il meglio, le pressioni ce l'ha chi la mattina si alza alle 4 per andare a lavorare e fa fatica arrivare a fine mese. Noi siamo consapevoli che siamo lì perché stiamo facendo molto bene come altre squadre, fra cui il Cartigliano, fra cui il Mestre, Legnago, tutte le squadre. È un girone difficile, ogni domenica può succedere di tutto, noi pensiamo solo allenarci bene da martedì e poi la domenica provare a dare il massimo divertendici, quindi non c'è nessuna pressione. Andrea svelaci però un pochino come è stato assemblato questo che sembra un giocattolo perfetto, adesso con l'arrivo di Pasquato a novembre il Campo d'Arsico sembra veramente avere l'organico migliore. Ma sai all'inizio noi eravamo proprio una delle ultime come pronostico degli addetti lavori, diciamo che prima c'è la Luparense, c'è l'Adria, su tutte perché hanno disponibilità economiche notevoli, le altre abbiamo cercato di fare il meglio possibile, a noi ci è riuscito bene insieme al Cartigliano, metto Legnago e Mestre. Noi abbiamo scelto gli uomini in quel momento giusti per la realtà del Campo d'Arsico, abbiamo ragazzi che l'anno scorso sono retrocessi, però sono bravi, hanno voglia di rivincita, abbiamo ragazzi che sanno giocare bene al pallone, Gabbianelli, Tonnelli, Pasquato, giovani interessanti di proprietà del Campo d'Arsico e un paio che vengono da fuori molto interessanti visti magari nel settore giovanile quando giravo, insomma è venuto fuori questo mix interessante, si stanno divertendo molto dentro e fuori del campo e quindi per adesso le cose vanno bene, però il campionato è lunghissimo, le squadre forti, penso che ce ne siano tante altre insieme alla nostra e verranno sicuramente fuori. E poi grandi meriti anche al mister Andreucci per quello che sta facendo. Il mister è una certezza da anni, il mister è una persona straordinaria, è una persona che ascolta e di un'umiltà incredibile, penso che allenare non voglia soltanto dire conoscere schemi di vario genere, allenare vuol dire anche conoscere le persone, sapersi relazionare con le persone, avere l'umiltà giusta con le persone. Domenico tu hai giocato a Cartigliano, quindi è una realtà che sicuramente conosci, ti abbiamo visto anche spesso in tribuna guardare le partite della formazione bianca-azzurra, come giudichi questo che oramai non possiamo neanche più definire un esploat, perché sta finendo il girone d'andata e il Cartigliano è lì, secondo in classifica, a meno 3 dal campo d'Arsico, ma soprattutto a più 12 rispetto all'anno scorso. Sì, beh, io quando ho giocato a Cartigliano ho giocato quando ero in promozione e quindi sono già passati diversi anni, però penso che nel mio periodo in cui ho giocato adesso non si è cambiato nulla, perché appunto se il Cartigliano è là, vuol dire che mi riprendo al discorso che ha fatto il Mister, i giocatori, la società, il Mister, oltre a essere bravi, si divertono e lo fanno in maniera professionale e ottenendo anche risultati, perché se guardiamo la realtà del Cartigliano, la gente va a lavorare durante il giorno e si piena di sera e mette tutto, tutto cuore, corpo e anima alla domenica in campo e si vedono i risultati. Andrea, sappiamo e so personalmente che sei una persona molto schietta, quindi facciamo un attimo un giochino senza peli sulla lingua. Qual è la squadra che ti ha deluso di più? Qual è la squadra che ti ha sorpreso maggiormente? Ma non mi piace mai parlare di delusioni, perché poi i campionati sono una volta tocca a me, una volta tocca a te, fate voi le vostre considerazioni e chiaramente io a me piace parlare di sorprese, se si possono considerare sorprese metto il Cartigliano d'obbligo, d'obbligo perché sta facendo un campionato straordinario, la differenza è lo fare lo sconto diretto con noi, metto il campo d'Arsego perché ti ripeto, tutti avevano pronosticato altre squadre in questo momento sopra di 10 punti, sopra di 12 punti, ma ai campionati le partite vanno giocate, mi piace parlare dell'Egnago perché sta facendo molto bene e mettere il Mestre anche in forma di cuore perché io ho giocato lì due anni nei professionisti, sono stati due anni spettacolari, bellissimi, sento ancora dei tifosi e quindi metto il Mestre perché più che rivelazione è una piazza importante. E allora dicembre è alle porte, calciomercato sicuramente uno dei temi caldi, il mercato il campo d'Arsego, il grosso lo ha già fatto, il tuo colpo è arrivato a novembre, però dici se c'è qualcosina ancora in cantiere per ritoccare eventualmente qualcosa. Alla fine noi siamo una realtà dove aveva un certo tipo di budget, non possiamo competere oggi con altre realtà che hanno dichiaratamente voluto e detto che volevano vincere questo campionato, stravincerlo, quindi dobbiamo muoverci un po' prima. Noi il mercato nostro l'abbiamo già fatto a luglio e poi abbiamo ritoccato a novembre con due ragazzi come Finazzi e Cristian Pasquato, che Cristian Pasquato è solo un colpo di fortuna perché a parte un amico ha chiesto di allenarsi perché abita un metro dal campo, veniva in bicicletta, poi si è appassionato al nostro modo di giocare, si è appassionato magari a me, al mister, ai ragazzi che li hanno voluto bene da subito, quindi ha detto voglio fermarmi qua. Non abbiamo parlato ad esempio di cifre, di cose, lui ha solo voluto firmare per darci una mano e dare una mano al suo paese e Finazzi è un ragazzo che conosco da tantissimi anni i tempi del Melfi, i tempi del Brescia, voleva rimettersi in discussione tornando al Brasile e ha sposato anche lui la causa, quindi il nostro mercato l'abbiamo già fatto e aspettiamo da Polonia che nel nostro colpo di dicembre credo sia Davide da Polonia perché è pronto due settimane penso che possa essere pronto. Bene, e adesso apriamo il capitolo sul campionato di promozione che ieri ha riservato una sorpresa fino a un certo punto perché tante addette ai lavori hanno sempre indicato il Cornedo come una delle squadre più pericolose del girone, Domenico ti chiedo, il Bassano ha perso 3-2, primo KO stagionale proprio sul campo del Cornedo, adesso la classifica vede Bassano 26, Schio 25 e Cornedo 22, un campionato che sembrava indirizzato a una corsa 2 improvvisamente si è riaperto. Bello cos'è? No, volevo dire, nel calcio non c'è niente di scontato, Bassano ha fatto un grande percorso fino adesso. Ci sta che durante l'anno ci sia un'intoppata o un stop che portano avanti anche altre squadre che magari avevano già perso punti dall'inizio qua e là per rendere magari anche il campionato più competitivo, più bello perché se Bassano avesse già vinto il campionato ci sarebbe più andare a vedere la promozione. Ieri oltretutto un altro match importante, Schio-Rosà vince lo Schio 2-0, qui è una questione anche di cuore per te visto che sei a Rosà, il Rosà non ha demeritato perché ha fatto una buonissima partita però lo Schio si è dimostrato forse leggermente superiore, quel tanto che basta per portare a casa i tre punti. Sì, io non ho visto la partita quindi non posso più di tanto parlarne però so che Rosà in questo periodo sta facendo tanta fatica, sta facendo una fatica che magari non dico di gioco ma di risultati e quindi è un po' altallenante che permette all'inseguitrice di agganciarla. Abbiamo sentito proprio in settimana Mr. Fabian, l'allenatore del Rosà che ci parlava proprio di questo, buone prestazioni, tanto gioco, tante occasioni però mancano un po' di punti rispetto a quello che Rosà è riuscito a costruire. E poi come non parlare della Marosticense, un'altra realtà che tu conosci molto bene, ieri due gol di Merlo, la Marosticense si riaffaccia nelle zone alte, c'è un mister che non ha bisogno di presentazioni. No, anche perché il mister a lui devo tanto, perché è grazie a lui che ho potuto intraprendere la mia carriera da professionista, lui ha creduto in me, mi ha sempre tenuto nell'ambiente, eccetera, ho avuto la possibilità di annusare anch'io il palcoscenico da professionista, grazie al mister. So che il mister ha delle idee molto ben precise, forse non per queste categorie qua non sono anche facili nel comprendere, però il mister è molto bravo e si vede alla lunga il lavoro del mister paga, perché se noi andiamo a vedere la Marosticense l'anno scorso e all'inizio dell'anno era partita male, adesso si trova per lottare su un posto per il playoff, per un posto importante, quindi il lavoro del mister paga. E ti chiedo un ultimo commento sul football Valbrenta, ci sono un po' di movimenti a livello dirigenziale, ma soprattutto una crisi di risultati probabilmente ancora figlia della trattativa fra Bassano e Valbrenta, della mancata fusione, tanti giocatori che sono passati in maglia giallorossa, insomma il Valbrenta come giudichi questo inizio di stagione? Beh, posso giudicarlo, ho anche degli amici che giocano ancora là, come per esempio il portiere basso Andrea, che ogni tanto ci troviamo, me ne parlano un po', sì, è un ambiente che lavorano tranquillo, sì, però non riescono a fare risultati, non riescono a dare, può essere che dato anche a livello psicologico, anche da parte anche fatto dei giocatori che sono stato smantellato una realtà di eccellenza per portare tutto a Bassano, entra anche un fattore sinceramente di testa anche di giocatori che possono anche rendimento, incidere sul rendimento. E avremo prossimamente, daremo spazio al Valbrenta, inviteremo qui i protagonisti di questo inizio di stagione, torniamo a parlare di Serie D e chiudiamo il cerchio, domenica partita molto complicata per il campo d'Arsico contro il Legnago che, ne abbiamo parlato prima, è una delle squadre più in forma del momento, ha battuto la Luparense e ha battuto l'Adriese. Ti chiedo rapidissimo un commento sulla partita di domenica prossima e poi un piccolo flash sul momento di appannamento dell'Adriese. Beh, Legnago intanto è allenato da un allenatore super per la categoria e non solo per questa categoria, è un allenatore che fa giocare benissimo le proprie squadre, è una squadra giovane, una squadra che corre, è una squadra che va su tutti i palloni, non lasciano un po' come il Cartigliano, le paragono perché hanno questa fame, questa voglia e noi dobbiamo avere la stessa fame, la stessa voglia loro che abbiamo avuto e spero sia una bella partita che vinca il migliore. L'Adriese? L'Adriese è un momento difficile, i ragazzi li conosco tutti, sono tutti i ragazzi che ho avuto io tra Abano e Matellica, dal mio parentesi di quell'anno lì, è una squadra strutturata per vincere, è una squadra economicamente molto forte, di un presidente importante, una gran brava persona, penso che ha tutte le qualità per risollevarsi. Il nostro spazio finisce qui, l'appuntamento chiaramente con sabato e lunedì prossimo, sempre alle 20 su Rete Veneta, ringrazio i miei ospiti Andrea Maniero e Domenico Bertoncello. Buonasera, grazie a tutti e buona serata a tutti.